oh guardi non diciamo niente che poi mio marito si incacchia se la prende con me e mi tratta male io non voglio assolutamente discutere con mio marito su questi grandi temi per carità ma putti resta sempre un gran bell'uomo guardi sarà cattivo magari cattivello ecco ma avrà le sue ragioni e a volte uno poi e viene nervoso ma raccontato la parrucchiera che ha fatto questo nuovo taglio vede questo taglio a schiaffo si chiamano ma raccontato la parrucchiera che il putin era innamorato di una fiula la ragazza la fanciulla ucraina e quella ha detto non te la cadò e lui ha detto aspetta che arrivo poverino e lui è arrivato la fiula non c'è più e lui si è incazzato insomma è sempre un gran bell'uomo è il putin guardi io il putin veramente l'ho visto in televisione ho questa espressione sempre così maschia in questo mondo che non si capisce più chi è blanco chi è nero insomma il putin sono maschione ecco maschione caucanico o mi stanno chiamando chiedo scusa devo andare vladì arrivo a